In questo video tutti i vincitori di Sanremo, a cominciare dal 1951, e tutti i presentatori. Lunedì 29 gennaio 1951, dal casino di Sanremo, che vediamo in diapositiva, davanti ad una platea di non affollati tavolini disposti alla Caffè Chantal, cui si accede pagando 500 lire a persona, Nunzio Filogamo presenta, in diretta per la RAI, la prima serata del primo festival della canzone italiana. Prima edizione, 29-30-31 gennaio 1951. Prima classificata, grazie dei fiori, Nilla Pizzi. La luna si veste d'argento, Nilla Pizzi e Achille Togliani. Terza classificata, serenata a nessuno, Nilla Pizzi e Achille Togliani. Presentatore, Nunzio Filogamo. Seconda edizione, 28-29-30 gennaio 1952. Prima classificata, vola a colomba, canta Nilla Pizzi. Papaveri e papere, canta Nilla Pizzi. Una donna prega, canta Nilla Pizzi. Presenta, Nunzio Filogamo. Terza edizione, 29-30-31 gennaio 1953. Prima classificata, viale d'autunno, Carla Boni e Flo Sandons. Campanaro, Nilla Pizzi, Teddi Reno. Lasciami cantare una canzone. Achille Togliani e Teddi Reno. Presenta, Nunzio Filogamo. Quarta edizione, 28-29-30 gennaio 1954. Prima classificata, tutte le mamme. Presenta, Gino Latilla e Giorgio Consolini. Seconda classificata, canzone da due soldi. Catina Ranieri e Achille Togliani. Terza classificata, e la barca tornò sola. Gino Latilla e Franco Ricci. Presenta, Nunzio Filogamo. Quinta edizione, 27-28-29 gennaio 1955. Prima classificata, Buongiorno Tristezza, Claudio Villa e Tullio Pane. Seconda classificata, Il Torrente. Claudio Villa e Tullio Pane. Terza classificata, Canto nella Valle. Natalino Otto e Bruno Pallesi e Nuccia Bongiovanni. Presenta, Armando Pizzo e Maria Teresa Ruta. Sesta edizione, 8, 9 e 10 marzo 1956. Prima classificata, Aprite le finestre. Canta, Franca Raimondi. Seconda classificata, Amami se vuoi. Tonina Torrielli. Terza classificata, La vita è un paradiso di bugie. Luciana Gonzales. Presentatori, Fausto Tommei e Maria Teresa Ruta. Settima edizione, 7, 8, 9, 10 febbraio 1957. Prima classificata, Corde della mia chitarra, Claudio Villa e Nunzio Gallo. Seconda classificata, Usignolo, Giorgio Consolini e Claudio Villa. Terza classificata, Scusami. Gino Latilla e Tonina Torrielli. Presentatori, Nunzio Filogamo, Marisa Allasio e Fiorella Mari. Ottava edizione, 30, 31 gennaio e 1 febbraio 1958. Prima classificata, Nel blu dipinto di blu, Domenico Modugno e Gianni Dorelli. Seconda classificata, L'Edera, Nella Pizzi e Tonina Torrielli. Terza classificata, Amare un'altra. presentatori, Gino Latilla e Nella Pizzi. Presentatori, Fulvia Colombo e Gianni Agos. Nona edizione, 29, 30, 31 gennaio 1959. Prima classificata, Piove. Domenico Modugno e Gianni Dorelli. Seconda classificata, Io sono il vento, Gino Latilla e Arturo Testa. Terza classificata, Conoscerti, Teddi Reno e Achille Togliani. Presentatori, Enzo Tortora e Adriana Serra. Decima edizione, 28, 29, 30 gennaio 1960. Prima classificata, Romantica. Renato Raschel e Tony Dallara. Seconda classificata, Libero, Domenico Modugno e Teddi Reno. Terza classificata, Quando vien la sera. Gioi Sentieri e Uvilma De Angelis. Presentatori, Paolo Ferrari e Enza Sampo. Undicesima edizione, 26, 27, 28 gennaio 1961. Prima classificata, Aldilà, Luciano Taglioli e Betty Cortis. Seconda classificata, 24 mila baci, Adriano Celentano e Little Tony. Terza classificata, Il mare nel cassetto. Milva e Gino Latilla. Presentatori, Giuliana Calandra e Lilli Lembo. dodicesima edizione, 8, 9, 10 febbraio 1962. Prima classificata, Addio, Addio. Domenico Modugno e Claudio Villa. Seconda classificata, Tango Italiano, Milva e Sergio Bruni. Terza classificata, Gondolì Gondolà, Sergio Bruni e Ernesto Bonino. Presentatori, Renato Tagliani, Vicky Ludovisi e Laura Efrichian. Tredicesima edizione, 7, 8, 9 febbraio 1963. Prima classificata, Uno per tutte, Tony Renis e Emilio Pericoli. Seconda classificata, Amor Mon Amour My Love. Eugenia Folligatti e Claudio Villa. Terza classificata, Giovane Giovane, Pino Donaggio e Cochi Mazzetti. Presentatori, Mike Buongiorno. Edi Campagnoli, Maria Giovannini, Rosanna Armani e Giuliana Copreni. Quattordicesima edizione, 30, 31 gennaio e 1 febbraio 1964. Prima classificata, Non ho l'età per amarti, Gigliola Cinquetti e Patrizia Carli. Altre finaliste, che me ne importa a me, eccetera, eccetera. C'è stata solo la prima classificata. Presentatori, Mike Buongiorno e Giuliana Loiodice. Quindicesima edizione, 28, 29, 30 gennaio 1965. Prima classificata, Se piangi, se ridi, Bobby Solo e New Christel Mistrels. Altre finalisti, perché c'è stata solo la prima classificata. Abbracciami forte, amici miei, aspetta domani, ho bisogno di vederti, invece no, io che non vivo senza te, l'amore ai tuoi occhi, eccetera. Presentatori, Mike Buongiorno e Maria Grazia Spina. Sedicesima edizione, 27, 28, 29 gennaio 1966. Prima classificata, Dio come ti amo, Domenico Modugno e Gigliola Cinquetti. Poi altri finalisti, adesso sì, alla buena de Dios, così come viene, in un fiore, io ti darò di più, la notte dell'addio, eccetera. Presentatori, Mike Buongiorno, Paola Penni e Carla Puccini. Diciasettesima edizione, 26, 27, 28 gennaio 1967. Prima classificata, Non pensare a me, Claudio Villa e Iva Zanicchi. Seconda classificata, Quando dico che ti amo, Annarita Spinaci e Les Surf. Terza classificata, Proposta, I Giganti e Te Pachalos. Presentatori, Mike Buongiorno e Renata Mauro. Diciottesima edizione, 1, 2, 3 febbraio 1968. Prima classificata, Canzone per te, Sergio Endrigo e Roberto Carlos. Seconda classificata, Casa Bianca, Ornella Vanoni e Marisa Sannia. Terza classificata, Canzone, Adriano Celentano e Milva. Presentatori, Pippo Baudo e Luisa Rivelli. Diciannovesima edizione, 30, 31 gennaio e 1 febbraio 1969. Prima classificata, Zingara, Bobby Solo e Iva Zanicchi. Seconda classificata, Lontano dagli occhi, Sergio Endrigo e Mary Enfiln. Terza classificata, Un sorriso, Don Bachi e Milva. Presentatori, Nuccio Costa e Gabriella Farinon. Ventesima edizione, 26, 27, 28 febbraio 1970. Prima classificata, Chi non lavora non fa l'amore. Adriano Celentano e Claudi Amori. Seconda classificata, La prima cosa bella, Nicola Di Bari e Ricchi e Poveri. Terza classificata, L'Arca di Noè, Sergio Endrigo e Iva Zanicchi. Presentatori, Enrico Maria Salerno, Ira Fustenberg e Nuccio Costa. Ventunesima edizione, 25, 26, 27 febbraio 1971. Prima classificata, Il cuore è uno zingaro, Nicola Di Bari e Nada. Seconda classificata, Che sarà, Ricchi e Poveri e Giuseppe Riziano. Terza classificata, 4 marzo 1943. Lucio Dalla e Equip 84. Presentatori, Carlo Giuffret e Elsa Martinelli. Ventiduesima edizione, 24, 25 e 26 febbraio 1972. Prima classificata, I giorni dell'arcobaleno, Nicola Di Bari. Seconda classificata, Come le Viole, Peppino Gagliardi. Terza classificata, Re di Denari, Nada. Presentatori, Mike Bongiorno, Silva Coscina e Paolo Villaggio. Ventitresima edizione, 8, 9, 10 marzo 1973. Prima classificata, Un grande amore e niente più. Peppino Di Capri. Seconda classificata, Come un ragazzino. Peppino Gagliardi. Terza classificata, Da troppo tempo. Milva. Presentatori, Mike Bongiorno e Gabriella Farinon. Ventiquattresima edizione, 7, 8, 9 marzo 1974. C'è solo la prima classificata. Prima classificata, Ciao, cara, come stai? Canta Iva Zanicchi. Presentatori, Corrado Mantoni e Gabriella Farinon. Venticinquesima edizione, 27, 28 febbraio e 1 marzo 1975. Prima classificata, Ragazza del Sud. Canta Gilda. Seconda classificata, Ipocrisia, Angela Luce. E a pari merito, Va Speranza Va, Rosanna Fratello. Presentatori, Mike Bongiorno e Sabina Ciuffini. Ventiseiesima edizione, 19, 20, 21 febbraio 1976. Prima classificata, Non lo faccio più. Peppino Di Capri. Seconda classificata, Come stai? Con chi sei? Wes e Dori Ghezzi. Terza classificata, Gli occhi di tua madre, Sandro Giacobbe. E a pari merito, Volo a Z504. Gli Arbatros. Presentatore, Giancarlo Guardabassi. E da quest'anno, 1977, il Teatro Comunale di Sanremo, che fu costruito il 1877, non è più all'altezza per vetustà di ospitare il festival. E così, come vediamo dalla diapositiva, ci siamo trasferiti al Teatro Ariston, sempre di Sanremo. Ventisettesima edizione, 3, 4, 5 marzo 1977. Prima classificata, Bella da morire, Homo sapiens. Seconda classificata, Tu mi rubi l'anima, i collage. Terza classificata, Monica, i santo California. Presentatori, Mike Buongiorno e Maria Giovanna Elmi. Ventottesima edizione, 26, 27, 28 gennaio 1978. Prima classificata, e dirsi ciao, i Mattia Bazar. Seconda classificata, c'è una ragione, Anna Oxa. Terza classificata, Gianna, di Rino Gaetano. Presentatori, Beppe Grillo, Stefania Casini e Maria Giovanna Elmi. Ventinovesima edizione, 11, 12, 13 gennaio 1979. Prima classificata, Amare, Mino Vergnaghi. Seconda classificata, Barbara, Enzo Carella. Terza classificata, quell'attimo in più, I Camaleonti. Presentatori, Mike Buongiorno e Anna Maria Rizzoli. Trentesima edizione, 7, 8, 9 febbraio 1980. Prima classificata, Solo noi, Toto Cutugno. Seconda classificata, Ti voglio bene, Enzo Malepasso. Terza classificata, Su di noi, Pupo. Presentatori, Roberto Benegni, Olimpia Carlisi, Olimpia Carlisi e Claudio Cecchetto. Trentunesima edizione, 5, 6, 7 febbraio 1981. Prima classificata, Per Elisa, Alice, Maledetta Primavera, Loretta Goggi, Tu cosa fai stasera? Dario Baldambebo. Presentatori, Claudio Cecchetto, Eleonora Vallone e Nilla Pizzi. Trentaduesima edizione, 28, 29, 30 gennaio 1982. Prima classificata, Storie di tutti i giorni, Riccardo Fogli, Felicità, Albano e Romina Power. Terza classificata, Soli, Drupi. Presentatori, Claudio Cecchetto e Daniele Piombi. Trentatreesima edizione, 3, 4, 5 febbraio 1983. Prima classificata, Sarà quel che sarà. Tiziana Rivale. Seconda classificata, Volevo dirti. Donatella Milani. Terza classificata, Margherita non lo sa. Dori Ghezzi. Presentatori, Andrea Giordana, Isabel Russinova, Anna Pettinelli, Emanuela Falcetti e dal Casinò, Daniele Piombi e Roberta Manfredi. Trentaquattesima edizione, 2, 3, 4 febbraio 1984. Prima classificata, Ci sarà. Albano e Romina Power. Seconda classificata, Serenata, Toto Cutugno. Terza classificata, Cara, Cristian. E poi, prima classificata tra le giovani promesse, Terra Promessa, Canta Eros Ramazzotti. Presentatori, Pippo Baudo, Iris Peinado, Elisabetta Gardini, Tiziana Pini e Edi Angelillo. 35esima edizione, 7, 8, 9 febbraio 1985. Prima classificata, Se mi innamoro, ricchi e poveri. Seconda classificata, Noi, ragazzi di oggi. Luis Miguel. Terza classificata, Chiamalo Amore, Gigliola Cinquetti. E poi, la prima classificata tra le giovani promesse, Niente di più, Cinzia Corrado. Presentatori, Pippo Baudo e Patti Brard. E infine, 36esima edizione, 13, 14, 15 febbraio 1986. Prima classificata, Adesso tu, Eros Ramazzotti. Seconda classificata, Seconda classificata, Il Clarinetto, Renzo Arbore. Terza classificata, Senza un briciolo di testa, Marcella. Poi, prima classificata tra le giovani promesse, Grande Grande Amore, Lena Biolcati. Presentatori, Presentatori, Loretta Goggi, Anna Pettinelli, Mauro Micheloni e Sergio Mancinelli. Insomma, Sanremo non finisce mai di stupire. Perfeu, La rezone, Adesso, Mario, Anime, Dari eaten, Mancinelli, 安全 mal e Sergio meal入占, Che wie pulita, Pedimos. 2 Porti Mosgi, 해ruh e IVAM,